Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi giro il video delle letture del mese di aprile, quindi i libri che ho letto durante lo scorso mese. Ad aprile ho letto tre libri e un pezzetto, nel senso che ho letto tre libri completi e la prima parte di Via Colvento per il GDL che ho creato. Quindi questo mese non sono riuscita a mantenere il mio buon proposito di leggere quattro libri, anche se in realtà la parte che ho letto di Via Colvento era di oltre 300 pagine, quindi comunque sono contenta del numero di pagine che ho letto durante il mese. Ovviamente della prima parte della lettura di Via Colvento non vi parlerò in questo caso, perché ho fatto un video interamente dedicato alla prima parte del GDL, quindi se ve lo siete perso lo trovate qui, dove parlo in maniera approfondita dei primi 21 capitoli di questa bellissima storia. Quindi niente, procediamo, adesso vi faccio vedere che cosa ho letto durante il mese di aprile. Il primo libro di cui voglio parlarvi è sicuramente il libro più bello letto questo mese, e cioè Vita su un pianeta nervoso di Matt Haig, scusate non so come si pronuncia il suo nome. Questo è l'autore del romanzo Come fermare il tempo. Se vi ricordate, io quel libro l'ho letto e mi era piaciuto molto, anche se avevo trovato dei piccoli difetti all'interno della storia, di come l'autore aveva voluto gestire alcune parti della storia. In questo caso posso assolutamente dirvi di non aver trovato nessun tipo di difetto. In questo libro è veramente, veramente molto bello. Allora, questo non è un romanzo, nel senso che in questo libro l'autore ci racconta la sua esperienza personale con delle difficoltà enormi che ha affrontato durante la sua vita, difficoltà legate alla depressione, agli attacchi di panico, addirittura pensieri suicidi. Quindi, insomma, è una persona che ha vissuto e vive tuttora delle grandi difficoltà psicologiche che lo portano a vivere dei periodi terribili, in cui, insomma, non crede più in se stesso, non crede più in niente, ed ha paura anche del futuro o di tutto ciò che lo circonda. Quindi lui, in questo libro, non soltanto racconta in maniera molto trasparente, sincera, onesta, semplice, diretta, la sua esperienza, ma cerca anche di condividere con il mondo, quindi con tutti i lettori, quelle che sono state per lui le soluzioni ai problemi che ha dovuto affrontare. Quindi lui non ci parla soltanto di ciò che ha vissuto, cercando di condividere quello che è un argomento ancora oggi tabù, perché è molto difficile oggi parlare di problemi mentali, tra virgolette, quindi le difficoltà che si possono affrontare, la necessità di trovare aiuto magari in uno psicologo, in uno psichiatra e così via. E quindi lui, diciamo, parlando di questo argomento, è come se invitasse tutti coloro che ne sentono il bisogno a condividere questo genere di esperienze, perché non c'è vergogna e perché soprattutto è una cosa umana e assolutamente ammissibile, ecco. Ma in realtà la cosa più bella sono le soluzioni che lui condivide, perché affronta tantissimi temi, affronta il tema dei social, dei notiziari, l'accettazione del proprio corpo, la visione del tempo, l'amore, non so, per le attività all'aperto e così via, affronta tanti temi e in qualche maniera ci suggerisce come affrontare i periodi no della nostra vita. Lui cerca attraverso queste pagine di illustrarci come vivere nella maniera migliore con noi stessi, quindi accettare il fatto che possiamo avere dei difetti, accettare il fatto che possiamo non essere perfetti, che alcune cose ci possano far paura e non vergognarcene e allo stesso tempo cerca di aiutarci nel modo in cui ci rapportiamo con tutto ciò che ci circonda, quindi con la famiglia, con gli amici, con la vita, con i nostri hobby, cercando sempre di trovare la strada che ci rende più felici. In realtà non è facile per me parlare di questo libro perché ne dovrei parlare veramente per ore, dato che è pieno di ispirazione. Sono sincera, la parte che mi è piaciuta più di tutte è quella che riguarda i social. Io mi trovo totalmente d'accordo con la sua visione dei social, sul fatto che ci propongano degli stili di vita e delle persone che sono ai nostri occhi perfette, ci propongono dei modelli di perfezione. Quindi ragazze bellissime che ricevono tante cose gratuite a casa, belle come se fossero appunto sempre in copertina, stili di vita di persone ricche e così via, che ci bombardano di pubblicità e ci fanno sempre sentire come se qualcosa ci mancasse. Io non ne parlo tanto, ma io sui social rifletto veramente moltissimo e cerco sempre di usarli nella maniera migliore perché non voglio che mi danneggino. Ecco, e questo è quello che succede. Quando, se ci pensate, anche se voi andate su Instagram, è questo, voi sentite sempre la mancanza di qualcosa perché qualcuno che seguite ha più di voi, perché qualcuno che seguite fa esperienze che anche voi vorreste fare e così via. Quindi l'autore ci aiuta anche a distaccarci da quello che ci viene proposto e ci aiuta a cercare sempre il meglio che può provenire dai social. Quindi cercare di trarne tutto ciò che c'è di positivo e invece di evitare tutto quello che c'è di negativo. Quindi qui mi viene automatico il confronto con il libro Io odio internet, non so se ve lo ricordate, ma io l'avevo detestato quel libro, perché non analizza i social e il mondo di internet in una maniera intelligente, anzi assolutamente superficiale, ironica, ma che non fa ridere e dall'alto di un piedistallo. Lui ammette le sue debolezze, ammette quanto i social siano importanti per la sua vita e quanto lui stesso gli dedichi del tempo e quanto sia migliorata la sua vita quando ha deciso di ridurre il tempo che trascorreva sui social. Poi in generale insomma è pieno di bei insegnamenti, di regole da seguire nella nostra quotidianità che sono semplicissime ma che magari non so, non ci era mai venuto in mente di seguire. Io vi dico che in questo libro, lo sto guardando perché vorrei farvi vedere, l'ho sottolineato tantissimo, ora vi faccio vedere una cosa, però via via ci sono delle frasi che, ecco qua, che ho voluto sottolineare perché voglio veramente avere la possibilità di riprendere in mano questo libro quando mi sento giù e sfogliarlo, leggere le frasi che ho sottolineato e farmi, e stare meglio, ecco. Quindi questo è uno di quei libri che terrò sulla mia libreria per sempre, accanto a Big Magic, altro libro che mi ha sconvolto la vita, che mi ha aiutato a vederla in maniera diversa. In un caso si parlava di arte, quindi delle nostre passioni, in questo caso invece si parla proprio del vivere quotidiano. Un libro che consiglio a tutti, leggetelo, sono capitoli brevissimi, anche uno al giorno vi rivoluzionerà la vita, veramente. Cercate di tenere sempre a mente quello che lui dice in maniera così onesta, semplice, diretta, ma efficace. Secondo libro letto nel mese di aprile, qui sarò più breve, è stato Un bimbo mi aspetta. Alle mamme non ancora mamme, ai papà non ancora papà, e ai bambini che li aspettano per diventare finalmente figli, di Arnaldo Funaro. Allora, o Funaro, non lo so, scusatemi, anche i cognomi, niente. Comunque questo è chiaramente un libro che parla di adozione, quindi via via, insomma, mi capita di incontrare letture del genere, essendo io all'interno di questo percorso. Qui, questo libro è una raccolta di lettere, che un padre ha scritto alla propria figlia, immaginandola, intanto mi arrivano i messaggi, immaginandola, nel senso che lui ha cominciato a scrivere queste lettere nel momento in cui con la moglie hanno deciso di intraprendere questo viaggio dell'adozione, quindi senza ancora sapere chi sarebbe stato il loro figlio. L'unica cosa che lui sentiva dentro è che sarebbe stata una bambina, quindi si rivolge sempre ad una bambina, appunto, come ad una femmina. Però, diciamo che il messaggio bello che nasce da questo libro è il fatto che nel momento in cui si inizia un procedimento adottivo e siamo, diciamo, pienamente convinti, ecco, di volerlo continuare, di affrontare tutto quello che c'è da affrontare per portarlo a termine, la certezza dell'esistenza di un bambino dall'altra parte che ci aspetta, c'è. E quindi lui, diciamo, tramite queste lettere dice io non so quando ti incontrerò, non so come sarai, che età avrai, quali saranno i tuoi tratti, quali saranno le tue caratteristiche, ma io so che ci sei, ti devo solo cercare. E quindi il fatto che lui senta dentro di sé che già esiste quella che diventerà sua figlia, decide di scriverle delle lettere molto prima di incontrarla. Le lettere sono proprio dedicate a una bambina, quindi sono dei racconti molto semplici, proprio come se stesse parlando a lei. Quindi di una dolcezza infinita. Inoltre sono brevi e ogni tanto poi ci sono queste belle frasi motivazionali che toccano il cuore, ecco. Quindi insomma è un libro che si legge molto molto rapidamente. Io mi è piaciuto molto, anzi l'ho finito come sempre, va bene, in lacrime, è strano. Però ecco, devo dire che quello che mi tocca di più quando leggo questi libri è il fatto che siano dal punto di vista di un uomo. Ho diversi libri, ho sull'adozione, quasi tutti sono scritti dai padri. Questo per farvi capire quanto l'adozione veramente metta sullo stesso piano, sullo stesso livello, il babbo e la mamma, che la vivono nella stessa identica maniera. Per quanto i genitori siano genitori a pari livello, ecco, anche in una gravidanza naturale, insomma normale, è ovvio che l'esperienza è vissuta in maniera diversa. In questo caso no. Quindi mi piace da morire il fatto che i padri la sentano così tanto. Ecco che venga un po' smentito quel mito per cui i figli sono solo delle madri, ecco, non è assolutamente così. Quindi molto carino. Se conoscete qualcuno che vuole adottare o che, insomma, anche voi se siete interessati, ecco, a intraprendere questo percorso, sicuramente questa è una bella lettura che scalda il cuore. L'ultimo libro che ho letto ad aprile è stato il libro di Shirley Jackson, L'incubo di Hill House. Allora, di questo libro vi ho parlato brevemente nel video del Club del Libro, che vi lascio qui se non l'avete visto, nel quale parlavamo delle letture che tutti i lettori avevano fatto a tema horror. Quindi comunque ne abbiamo parlato in maniera un po' meno approfondita. Qui cerco di farvi capire bene la mia opinione. Allora, L'incubo di Hill House è un libro appunto di Shirley Jackson che racconta dell'esistenza di una casa che si dice essere infestata. C'è un professore che vuole entrare in questa casa per, diciamo, raccogliere dati e scrivere un libro che parli di questi fenomeni paranormali che dovrebbero avvenire all'interno di questa casa. E si avvale dell'aiuto di tre persone. Due donne che per motivi diversi, insomma, sono arrivati lì, ecco, non sto entrando nei dettagli, e sono Teodora e Ilionor, detta Nelly, e Luke che è invece il legittimo erede della casa. Quindi niente, entrano in questa casa e vivono al suo interno per alcuni giorni, cercando appunto di capire che cosa nasconda la casa e soprattutto quali sono questi eventi soprannaturali che li dovrebbero spaventare a morte. La prima notte trascorre tranquilla, poi ovviamente iniziano ad accadere delle cose che gli faranno capire che effettivamente questa casa nasconde qualcosa di strano. La voce narrante è quella di Nelly, appunto questa ragazza, questa protagonista, che è colei che vive le esperienze in maniera un po' diversa dagli altri perché è una donna, una giovane ragazza, anzi, che non si è mai sentita veramente a casa in nessun luogo. Per questo su di lei Hill House ha un potere diverso rispetto agli altri personaggi. È come se la conquistasse in maniera diversa, è come se la facesse sentire parte della casa tanto da farla sentire al sicuro nonostante tutto quello che succede a tutti i protagonisti della vicenda durante le varie notti che trascorrono lì. Quindi insomma si crea con la casa un rapporto un po' particolare che porterà a un finale totalmente sorprendente. Basta, questo è tutto quello che vi posso dire. La bravura di Shirley Jackson è come, perlomeno per me, io ho letto solo di questa autrice, abbiamo sempre vissuto nel castello e più o meno, diciamo, la cosa che ho notato è sempre la stessa, ovvero che l'autrice è bravissima non tanto a creare delle scene di paura, anche se qualcuna c'è all'interno del libro, però non esageratamente paurosa, ma più che altro sta nel riuscire a farci stare sempre col fiato sospeso, come se dietro ogni pagina ci fosse la possibilità di rimanere completamente terrorizzati. E quest'ansia continua è proprio quello che mi ha fatto leggere il libro soltanto di giorno e non la sera, perché comunque ero condizionata, ero dentro di me, ero talmente in tensione, ogni pagina che leggevo, che non importava se non c'erano storie di coi eventi veramente paurosi o veramente di terrore, perché ero terrorizzata tutto il tempo. Non so se mi sono spiegata. Poi vabbè, io sono particolarmente suggestionabile, quindi insomma, diciamo che su di me ha avuto l'effetto che voleva. L'unico difetto che ho trovato all'interno di questo libro, e ne ho parlato anche al club, è il fatto che, secondo me, alcuni dialoghi non erano tanto veritieri. Cioè, i personaggi mi sono sembrati un po' sopra le righe, cambiavano umore e argomento di conversazione da un rigu all'altro, e mi è sembrato un po' poco realistica, ecco questa cosa. Anche se mi è stato fatto notare che forse è perché tutto viene filtrato dalla mente della narratrice, quindi di Nelly, e forse è proprio il fatto che lei mentalmente era condizionata da questa casa che comunque aveva degli effetti su di lei, forse questo distacco, questo apparirci tutti i personaggi un po' sopra le righe, un po' strambi, sia dovuto proprio al fatto che è tutto visto dal punto di vista di lei, che con la mente comunque aveva dei condizionamenti che derivavano appunto dalla casa. Non saprei, a me questa cosa, ecco dei personaggi che non mi sembravano tanto veritieri nei loro comportamenti e nelle loro conversazioni, ha leggermente infastidito, nel senso che ha rovinato, tra virgolette, una storia che per il resto era molto intrigante e molto coinvolgente. Unica nota che devo aggiungere, il fatto che molti di voi mi hanno scritto, quando ho fatto vedere su Instagram che leggevo questo libro, mi hanno scritto dicendomi guarda la serie TV perché è veramente bella, hanno cambiato la storia, però è veramente paurosa. Allora io mi sono fidata, non so perché, e mi sono vista questa serie che oltretutto è su Netflix, quindi se avete Netflix la potete vedere. In ogni caso, in questa storia, sì, è abbastanza diversa quella della serie TV rispetto al libro, nel senso che non c'è il professore e gli aiutanti nella casa, ma è la storia di una famiglia composta da due genitori e cinque figli, tra cui troviamo tre personaggi con i nomi dei personaggi che abbiamo incontrato nel libro, quindi abbiamo Nelly, Teodora e Luke e più uno dei personaggi si chiama Shirley, non so se in onore tra virgolette dell'autrice. Comunque è una famiglia che è entrata all'interno di questa casa di Hill House, l'ha comprata per ristrutturarla e poi rivenderla. Nel momento in cui l'avrebbero rivenduta, avrebbero guadagnato talmente tanti soldi da potersi costruire la casa dei loro sogni. Quindi, diciamo che la storia nella serie TV si alterna tra il presente e il passato. Il passato è quello quando loro erano bambini, vivevano in questa casa e affrontavano i tantissimi orrori della casa, quindi tantissimi avvenimenti molto sospetti, terrorizzanti e inspiegabili e poi come questi avvenimenti hanno condizionato le loro vite e quindi vediamo loro da adulti come sono diventati. Allora, la serie mi ha completamente traumatizzata nel senso che a me ha fatto tantissima paura. Ora, non so voi come siete ma io addirittura sono arrivata che per due notti non riuscivo a dormire nel senso che avevo paura di sognare male. Non è che avevo paura del buio o di aprire gli occhi e vedere chissà cosa ma avevo proprio paura di sognare male. Allora, una notte addirittura ho svegliato mio marito dicendo io non riesco a dormire non so come fare. Lui ha riso un quarto d'ora comunque vabbè e fatto sta che a quel punto ho cominciato a guardare le puntate sempre il pomeriggio invece che la sera perché veramente ero terrorizzata. È una serie sola è una serie sola quindi potete guardarla a un finale quindi a una conclusione è intrigante da morire cioè io sono sincera è veramente bella. Mi veniva da ripensarci anche durante il giorno però ragazzi mi ha veramente terrorizzata tanto che quando l'ho finita sono stata anche contenta perché dopo qualche giorno ho cominciato insomma ad alleviarmi ad alleviare questo questo senso di paura che mi aveva lasciato e quindi dopo ho ricominciato a dormire serenamente. Questo per dirvi che la serie è veramente bella se avete voglia di vederla guardatela però ricordatevi che se siete un po' paurosi non so se fa per voi provate insomma. Bene ragazzi queste sono le letture che ho fatto nel mese di aprile e fatemi sapere voi che cosa avete letto se avete letto qualcosa dei libri che ho letto io non so le vostre opinioni tutto e noi come sempre ci vediamo presto con un altro video ciao ciao